Al mondo ci sono moltissime moto, molte arrivano e passano, poche restano impresse nella memoria, pochissime sono immortali. In questa serie racconteremo proprio loro, modelli nati dal genio creativo di designer e tecnici, moto che non sono più nemmeno moto, sono leggende. A raccontarcele sarà Michele Cito, professione designer, ma con una passione per la moto che va oltre il viscerale. E non parleremo solo di design, parleremo anche di storia. In questo episodio di Red Legend parliamo di MV Agusta F4. Ciao a tutti, sono Michele e sì, sono nuovo da queste parti. Con questo video proverò a raccontarvi il design di una delle moto più belle di sempre. In fondo ha ragione chi dice che la bellezza è soggettiva, ma è pur vero che oggettivamente alcune moto sono delle vere e proprie pietrimigliari del design. Se l'argomento dovesse piacervi, come spero, potremmo realizzare una vera e propria serie dedicata al design della moto, non limitandoci a commentarle come farebbe un criticone qualsiasi, ma cercando di contestualizzarle nel loro periodo di sviluppo e tenendo conto delle vicende tecniche e umane che hanno portato alla nascita della moto stessa. Mettete like e commentate, fatemi sapere. La moto di cui vi parlo oggi è la MV Agusta F4 Prima Serie, quella prodotta dal 1997 al 2010 in cilindrata 750, poi evoluta in 1000 e infine in 1078 cm3. Prima di tutto facciamo un ripassino, ok? MV Agusta è uno storico marchio italiano nato nel 1945 da una costola della famosa industria aeronautica fondata dal conte Giovanni Agusta nel 1919 in provincia di Varese e poi ereditata da suo figlio Domenico. Il periodo magico di MV Agusta fu tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 70, contraddistinto dalle imprese di John Sartis, poi anche campione con la Ferrari in Formula 1, Mike Hellwood e soprattutto dalle leggendarie imprese di Giacomo Agustini e della sua mitica tre cilindri. Quando Domenico morì, tutto il gruppo Agusta andò in crisi. Venne rilevato dallo Stato che si disinteressò delle motociclette e nel giro di pochi mesi la MV delle origini semplicemente si spense come una fiamma senza più combustibile, come un motore senza più benzina. A questo punto staremo raccontando di una storia morta e sepolta, se non fosse per un'altra famiglia di industriali italiani, non meno appassionata e anzi dotata di una vera folle intraprendenza che a conti fatti ha messo le basi a buona parte del motociclismo italiano che vediamo oggi. Prima di arrivare ad MV, comunque, i Castiglioni fecero molto altro. La loro famiglia era già proprietaria della KGVA, Castiglioni Giovanni Varese, un'azienda meccanica, che poi però rilevò le attività dell'Airmaki Harley-Davidson, facendo quindi della KGVA una nuova compagine industriale nel mondo della moto, che in poco tempo divenne protagonista. Era il 1978. La KGVA crebbe a tal punto da potersi permettere l'acquisizione, praticamente a costo zero, di alcuni gloriosi marchi, Usquarna, Moto Morini e soprattutto Ducati, che ormai era solo l'ombra della gloriosa rossa di Borgo Panigale, agonizzante dopo decenni di gestione statale, costretta a correre di nascosto e vicina alla chiusura della produzione moto. Sotto la spinta di Claudio Castiglioni la Ducati rifiorì, ritornando a fare moto moderne, ritornò a vincere, rafforzò il suo DNA, fissò i suoi valori tracciando la strada che percorre ancora oggi, orientata all'innovazione e alla sportività. Non era solo la Ducati a correre e a vincere, come sappiamo anche KGVA stessa era molto attiva, dal Cross alla Dakar fino al Moto Mondiale, ma questa, come si dice, è un'altra storia. Insomma, tutto questo preambolo serve a fotografare il contesto che porterà alla nascita di una delle moto più belle del mondo, per molti la più bella. E proprio la bellezza, il design all'italiana, ha giocato un ruolo fondamentale in questa storia. Claudio Castiglioni voleva fare moto che lasciassero il segno, anche esteticamente. Molti anni prima, a una cena a Varese, Claudio Castiglioni conosce Massimo Tamburini, che a quella cena era presente perché è amico di Renzo Pasolini, all'epoca pilota della casa Varesina a Ermacchi, che pochi anni dopo sarebbe diventata proprio dei fratelli Castiglioni. Quell'incontro sarà un vero anno zero per il motociclismo italiano. Probabilmente Tamburini lo conoscete già, ma mi sento di sbilanciarmi dicendo che, a mio modestissimo parere, il suo nome debba essere inserito nella lista dei più grandi designer italiani, sulla falsariga dei grandi nomi del design automobilistico e di prodotto, senza paura di essere contraddetto. Massimo Tamburini nasce da una famiglia contadina, ma dimostrerà ben presto grande interesse per la meccanica e per le moto. Diventerà imprenditore nel settore della termoidraulica, fondando con Bianchi e Morri la B-MO-TA, dalle iniziali dei loro cognomi. Già nel nome di questa prima impresa era segnato inconsapevolmente un destino diverso che avrebbe abbracciato il mondo della motocicletta, la passione più grande di Massimo, e in cui si sarebbe contraddistinto come un maestro, nell'accezione più rinascimentale del termine. Come nella più classica delle storie, alla fine Tamburini lascerà l'azienda che aveva creato per dedicarsi ad altro. Tamburini era semplicemente un genio, uno che ha commesso tanti errori e che non si è mai arreso. Non era esattamente uno stilista, e nemmeno esattamente un tecnico nel senso più ingegneristico del termine. I personaggi del suo spessore non sono etichettabili o classificabili. Tamburini costruiva le moto, punto. I ruoli per un personaggio come lui, su un oggetto come la motocicletta, non hanno nessun senso. Tecnica e stile, almeno sulla moto, sono così legati che sono quasi la stessa cosa. A metà anni Ottanta, Claudio Castiglioni e Massimo Tamburini si ritrovano, suggellando una collaborazione che farà i fuochi d'artificio, e che vorrei definire eterna, dato che entrambi se ne sono andati quasi nello stesso momento. Proprio per Tamburini, Castiglioni creò il Centro Ricerche Cagiva a San Marino, dove lavorerà con la sua equip alle moto del gruppo. Un'equip formidabile, fatta di bravi designer che avrebbero poi continuato dopo Tamburini, disegnando tra le più belle Ducati di sempre, più precisamente disegnando le più importanti Ducati di sempre. Non tanto perché quelli di oggi siano meno belle o meno importanti, anzi, il fatto è che il design di Tamburini ha condizionato il design della Ducati da lì e per i decenni a seguire. È abbastanza facile osservare i vari modelli fino alla 916 e dalla 916 in poi, ma anche questa è un'altra storia che magari racconteremo in seguito. Nel 1989 iniziò a farsi spazio l'idea di progettare una nuova Cagiva con una personalità tutta sua, di cilindrata a 750 cm³, 4 cilindri, per portare la marca nel settore delle Maxi Moto, sfidando anche sul mercato quell'industria giapponese che la Cagiva stava già sfidando in pista. Fin dall'inizio era chiaro come questa sfida sarebbe stata sul piano dell'esclusività, della tecnica costruttiva, delle prestazioni e del design. In un'unica parola, una sfida sul piano delle emozioni. Una parola chiave che dovrebbe stare a cuore a tutti i progettisti di moto. Primo ostacolo, il motore. In Cagiva erano maestri sui motori due tempi, ma nessuno all'epoca in Italia sapeva fare motori da moto a 4 tempi, quattro cilindri moderni e altamente prestazionali comparabili con i produttori giapponesi, che sul finire degli anni 80 avevano ormai raggiunto l'apice tecnologico. Nessuno tra le industrie motociclistiche, ovviamente. Ma se la Cagiva, come ogni veicolo italiano che si rispetti, correva nei Gran Premi con la carenatura rossa, beh, forse l'equazione mentale è stata relativamente semplice. Perché non farsi fare il motore della Ferrari? E così fu, almeno nella prima fase. E questa del motore, ragazzi, è l'ennesima storia nella storia. Perché, se è vero che il concept iniziale è stato della Ferrari Engineering, è anche vero che negli anni il motore fu praticamente rifatto dai ragazzi di Cagiva. Nel 1992, un telaio in alluminio costruito con il know-how delle corse, un motore a quattro cilindri e una carenatura recuperata da una Cagiva 500, si incontrano a Borgo Panigale per iniziare un lungo sviluppo stradale. Lo sviluppo della motocicletta Cagiva a quattro cilindri fu piuttosto controverso, ci furono un po' di lungaggini sul piano tecnico, ma sta di fatto che dopo il ritiro del Moto Mondiale, i prototipi in sviluppo a Borgo Panigale presero la via della Schiranna, sulle rive del lago di Varese, dove il reparto corse Cagiva venne interamente dirottato per portare avanti il progetto. Il tempo galoppava, ma non c'era ancora nulla di davvero concreto. Arrivò il 1995. Fortunatamente si trattava di un progetto talmente spinto da non risultare ancora vecchio dopo quasi cinque anni dall'inizio dei lavori. Ed è a questo punto che Claudio Castiglioni prese la decisione. Sapendo di poter contare su un marchio mitico, morto da quasi vent'anni, ma ancora nell'olimpo del motociclismo, Castiglioni decise di marchiare la nuova quattro cilindri con il glorioso marchio MV Agusta. E tra l'altro decise di mettere in vendita la Ducati per trovare nuove risorse. Ducati che infatti cambierà proprietà nel 1996. In quell'anno fatidico torna in pista anche Massimo Tamburini, che usciva da un grave problema di salute che lo aveva tenuto lontano dalla sua creatura. Ormai gli ingredienti c'erano tutti. Serviva ancora qualche mese per dar tempo al maestro Tamburini di modellare la moto più bella del mondo. Ho detto modellare e non disegnare perché Tamburini almeno all'inizio amava lavorare nemmeno col clay, ma addirittura con lo stucco da carrozziere, quasi come uno scultore. Dopo molte prove senza una reale convinzione, nel mese di agosto 1996, mentre tutti sono in ferie, si compie un episodio da leggenda. Si dice che Tamburini si fosse chiuso nel suo laboratorio e che abbia modellato la carenatura della F4. Mozzafiato, attillata e avvolta alla meccanica, quasi come se meccanica e carrozzeria fossero una cosa sola. Non è spigolosa, non è aliena, ma è muscolare, sportiva ed elegante come nessun'altra moto prima o dopo di lei. Sono evidenti le contaminazioni di altre moto che ha disegnato in precedenza per la Ducati, così come, a un occhio attento, l'influenza di altri capolavori a due ruote, soprattutto dei tanto bisfrattati giapponesi. Tutto questo però spinto a un livello ancora più alto. Nonostante il telaio che agiva in alluminio fosse un capolavoro tecnico, decise di tornare al suo amato tradizio di tubi, accoppiato a delle piastre in alluminio. Per essere una quattro cilindri trasversale, la moto è cortissima e strettissima. Nonostante il clamoroso ritardo nello sviluppo, all'epoca nessuno aveva mai visto nulla di simile. La forcella è massiccia, il faro è polilisoidale sovrapposto. La parte anteriore del cupolino è appuntita, ma non è sgraziata. Non è caricaturale come quello di certe moto odierne, spinte all'eccesso inutilmente solo per impressionare, ma di cui mediamente ci si stanca di guardarle dopo 20 secondi. I fianchi sono sinuosi e puliti. Gli indicatori di direzione non sporcano i fianchi con lampadine posticce avvitate alla carrozzeria, ma sono inseriti negli specchietti, anch'essi carenati e colorati, un'altra soluzione poi diventata normale. Il serbatoio è un'opera d'arte, esteticamente è perfettamente proporzionato e allo stesso tempo estremamente funzionale nella guida sportiva. La parte posteriore della moto è straordinaria almeno quanto l'anteriore. Il codone sembra quasi grande rispetto ai codini minimalisti degli ultimi anni, ma dal punto di vista estetico è perfettamente proporzionato, modellato come una scultura. Sovrasta lo scarico definito a canne d'organo, un altro capolavoro estetico e di sonorità che anch'esso diverrà uno dei simboli della F4. Poco più sotto troviamo la ruota, sorretta da un imponente monobraccio sul lato sinistro, che permette una vista impareggiabile sul lato opposto, dove la ruota rimane completamente a vista. Non è una soluzione nuova in assoluto, già vista sulla 916 e prima ancora sulle onda degli anni 80, ma nell'insieme il risultato è incredibile. In ogni caso, per quanto le forme siano innovative, la vera firma di Massimo Tamburini è visibile soprattutto nei dettagli, nell'approccio quasi maniacale verso componenti e particolari, che invece di essere acquistati a catalogo o realizzati seguendo pure logiche produttive, orientate cioè al contenimento dei costi, sono invece realizzati ad hoc, con forme, materiali e lavorazioni non esattamente coerenti con le logiche di pura industria. Pinze e pompe freno, leve, serbatoi di liquido freni e frizione, pedane, perfino la scelta del pneumatico anteriore è stata atipica e controcorrente. Un approccio questo che ha complicato parecchio la vita all'AMV, ma che allo stesso tempo ha reso la F4 una moto assolutamente speciale. Un capolavoro. Ricordatevi che questa moto è stata presentata nel 1997, 27 anni fa. A parte il comprensibile terremoto mediatico scatenato alla presentazione ufficiale il 15 settembre 1997, pochi giorni prima dell'apertura del Salone di Milano, la F4 farà un clamore planetario. La fusione esemplare di tecnica e forma levarranno le esposizioni in molti musei del mondo, tra cui il Guggenheim di New York, e in molti casi è stata posta all'interno di studi di architettura e design per rispirare forza e armonia. Negli anni divenne un successo commerciale, non tanto in termini di esemplari venduti, comunque non proprio pochissimi, ma in termini di blasone ed esclusività. Questa meccanica era così bella che Castiglioni mise in produzione la F4 anche senza carenatura, chiamandola brutale. Un altro, ennesimo capolavoro firmato dalla coppia Castiglioni-Tamburini. Nel mezzo di questa carriera importante, le aziende dei Castiglioni si sono ritrovate costantemente tormentate da crisi, da mancanza di liquidità, da accordi societari che si sono creati e poi sono saltati, da acquisizioni e cessioni. Ma oltre a questi trambusti, legati al modo del tutto passionale e poco industriale di fare le MV di quegli anni, è in generale tutto il mondo della moto ad essere cambiato. Le moto arrivate dopo di lei, MV e non, sono moto sicuramente emozionali ed eccezionali dal punto di vista estetico e tecnico, ma nessuna avrà quel qualcosa in più, quel pizzico di passionale follia di cui la prima F4 è secondo me una vera e propria bandiera. Adesso entriamo nel soggettivo, comprendo che qualcuno possa non essere d'accordo, ma quando incontro una F4 è ancora capace, dopo quasi 30 anni, di sorprendermi, di emozionarmi. Dopo tutto questo tempo ancora mi stupisce. Forse Claudio Castiglioni si riferiva a questo quando disse che anche se al mondo ci sono tante belle moto, la MV è un'altra cosa. Come la F4 è un'altra cosa. Grazie.